ciao a tutti i ragazzi bentornati qui con farming simulator è un paio di giorni che non ci vediamo ma ho avuto degli impegni e non ho potuto registrare delle gran puntate ma adesso siamo tornati vediamo un po in cosa possiamo fare vediamo se mi ricordo addirittura dove ero fermo mi sa che questo era da seminare con erba si mi sa di sì vediamo se nessun percorso vediamo se ho il percorso per il 33 con la seminatrice semina 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 o seminato qui non semina niente allora andiamo a prenderci un bel percorso nuovo qui bastano due ma si facciamo tre tanto che cosa ci cambia vediamo si va bene dai va bene va bene così ok allora tu vai primo punto si va bene e mi inizi con erba ok cavolo potremmo fargli però il pieno mi sono accorto solo adesso vabbè ormai andata non è un problema pertanto io in fattoria dovrei avere perché non scendo ma cagare ok prendo questa liquame qui 25.000 lasciamo paglia c'è latte acqua qua c'è tutto allora dovrei avvi dovria dovrei avere cui eccolo qua questa combination andiamo a fare il pieno così la mandiamo lì eh no come apro qua tira giù pensandoci però una cosa farming potrebbe potrebbe farlo no sarebbe particolare non so se c'è una mod che lo fa nel senso che è che cavolo manneggia sta cosa lo troverò prima o dopo infatti l'ho trovato e diversi semi per tipo di cultura no perché io con il frumento semino frumento con l'orzo semino orzo cioè semi in generale semino tutto non va bene questa cosa qua no non va mica tanto bene però ormai lasciamolo così che va bene è è Grazie a tutti. Andiamo sul 33 anche con questo, così lo mettiamo pronto lì, se dovesse aver bisogno. Ce lo troviamo pronti. Pallet vuoti, mi servono pallet vuoti, fabbrica cemento, latte, poi pallet vuoti, carta, un casino di pallet vuoti mi servono. Quello addirittura vuole pure il chipato, vabbè. Oh, è frizione questo attrezzo. Vediamo dall'interno com'è che non l'abbiamo ancora visto. Chip, spartana, solito, va bene. Dov'è? Metto qua. Non dovrebbe dar fastidio. Okidoki. Vediamo come siamo messi con le mie mettrebbe sul campo 8, perché secondo me una di queste piano piano dovrebbe girare a vuoto. Eh, quasi. Quasi, quasi, quasi. L'aiutante dov'è? In giro. Qua dice 38 minuti. 38 minuti. 38 minuti. Secondo me abbiamo quasi finito. Vediamo un po', mi sembra che c'era il 29. C'era il 29 da raccogliere e poi possiamo andare anche, quasi quasi, accettare uno di questi contratti. Così facciamo due cose, che guadagniamo un qualcosa di poco noi, tipo 36, 39, che non sono grandissimi, 54, sempre da vedere cosa c'è sopra però. Allora vediamo, 54 orzo, 35, no, 36, lavanda non la raccoglieremo di sicuro. 39 carote, non lo possiamo raccogliere, che palle. Anche perché ce la dovrebbe dare lui l'attrezzatura, fammi vedere. Allora, vediamo un po', avvolgi balle. Oh, questo, l'avvolgi balle sul 45 va fatto, facciamo dopo. Mi sa, mi sa che 53 sul 48, 50 mila, beh, che va dai gran soldi, ragazzi. Quasi, quasi, potrei iniziarlo. Che potrei iniziare. Mandiamo, big game, cosa vuole? Vuole le balle? Vuole che li avvolgiamo? Porta le balle alla grina, poi avvolgerli, ok. Allora, mi serve l'andana, 40, accettiamo questo. Questo è 61. 61. 61 non l'ho mai fatto, secondo me. Accetta. Ok. Ops, basta tu. Oh, guardate lì. Che c'è il mio camion a lavoro. L'aiutante dov'è? Non è che si è infognato da qualche parte, no? Oh. Oh. Vai. Vai. Ok. Cercavo the helper. Che cacchio ci fai qua? Eh, sì, se sono rincoglionito io, purtroppo, che ci posso fare? Impianto biogas. Sud. Dove è sfuso? Nord. Nord. Consegna sfuso. Qua, vai lì. Cacchio ci fai là? Eh, dopo venderemo un po' di balle. Ci metteremo in soldi con le balle che andiamo a vendere e quelle che rimangono. Ah, qui non c'è più niente. Ok. Altre produzioni pri... Priene. Priene. Altre produzioni piene. Vediamo cosa c'è. Iniziamo da sopra. Questo... Ah, prima che si riempie. Oh, però. Piano piano. Ah, mi immaginavo che erano meglio. Birra non ne abbiamo. Qua l'abbiamo svuotato. Compost nada. Qui come siamo messi? Cheap full milk. Fruit yogurt. Questi potremmo mettere anche in funzione, perché comunque sono due prodotti... Perché cosa ti manca? Ah, è lato di pecora. Scusami, anche yogurt sono fotti di pecora? Eh, fotti di pecora. Che significa fotti di pecora? Fotti di pecora, ragazzi. Fotti di pecora. Allora niente fotti di pecora. Oh, anche perché? Aspetta, per fare yogurt abbiamo bisogno di... Fragole, more... No, comunque si chiamano queste cose qua. I lamponi, ciliegie, pesche e... E i vasetti. Ah, i vasetti non ce li abbiamo proprio. Ma anche se, se mi arriva ciò cacchio di metano, prima o dopo ce li ho. E invece questi qua hanno bisogno delle bottiglie per fare il latte. Manco per attivarlo che non serve. Ok. Qua non abbiamo prodotti inutile portare. Qui è pieno, pieno imballato. Quasi quasi un po' la venderei. Che un po' lo venderei. Quasi la metà, no? Siamo a 7,92, ghiaglia, coso? Qua come si è messi? Ancora ce n'è. Qua. Spazio ce n'è. Oh, carta. Carta è un buon punto. Qua l'abbiamo svuotato. Ok, qua siamo a niente. Un po' di carne di pecora, un po' di lana. Qua siamo a vuoto. Qua ci vogliono gli assi. A proposito, gli assi possiamo anche portargli. Un po' di assi ce li ho. Vabbè, tu fai una cosa. Stai fermo per adesso qua che non mi servi. Tu sei a posto. Voglio svuotare quale cacchio di meti trebbia. Dov'è? Allora, vediamo se arriva l'aiutante, così spostiamo. Aspetta che ci vado incontro, così mentre scarico una scarico pure questa. Faccio il clandestino, arrivo da dietro. Fapte. Mi imbuco. Vai troppo in là ciccio. Forse nella cosa mi riusciva meglio se ci staccavo, è uscito a cacchio di lama. Gniec. Devo tenere sott'occhio l'altra perché se quella si scarica prima, poi vuol partire. Quanto ne ho? 8000 io? Quella? Ah, quasi finito. Via, 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 via. Apilus! Dai, stai fermo un quarto d'ora, per favore. Fatto! Grazie, muy sentíl. Allora, noi ci possiamo trasferire. 29. Andiamo a fare il 29. Uo! Dio, po' quanti danni abbiamo fatto. Allora, da qua riesco a uscire? Sì. C'è il guardrail? No. Usciamo da qui. Andiamo sul 29 con la colza. E poi iniziamo lì con la missione. Tanto il big game taglia. La mette tre, l'imballatrice imballa. L'unica cosa che mi tocca fare a me è raccogliere quelle quattro balle. Che probabilmente mi organizzo. Ho visto qualcosa là di strano. Però. Cos'è, iniziamo da qui? Tanto che ci cambia. Iniziamo da qui, dai. Ok. Io. Ciao. 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 e vai ok allora dal punto più vicino andiamo a fare un percorso che è di sicuro non faccio partire qua faccio partire da qui ok e questo lo faccio partire da qua quel pezzo alla fine che mi manca lo facciamo dopo facciamo partire questo ha finito? quasi vabbè adesso un po' di cose li andiamo a riprendere noi perché tutti questi angoli vuoti non mi piacciono almeno per l'erba facciamolo dai wow lavorano tutti e due ah si mettono d'accordo spero ok e anche tu hai finito benissimo io però voglio andare a attivare il P-CAM dove sei? dai P-CAM dove sei? andiamoci a piedi che facciamo prima ma lo campo 61 intanto vediamo un po' dov'è perché dovrebbe essere stavo dicendo qua sopra ma no è qua sotto 61 oh vero 61 allora mandiamo Big M sul 61 ok intanto dopo che ci arriva poi vediamo un po' 61 61 61 non può raggiungere perché è messo male qui sicuro e infatti adesso si faccio anche qui quei campi lì così che nel momento in cui andiamo a comprarli abbiamo anche un po' di sconto perché altrimenti li dobbiamo pagare a prezzo intero invece questa scusa abbiamo un piccolo sconticino alla fine allora andiamo a fare gli angoli così che almeno questo parto da qui e poi devo vedere perché devo dare un'occhiata se tutti i campi di mio possesso anche quelli nuovi hanno a fianco la cosa con le api le arne perché non mi ricordo se li ho messe dappertutto questo è a posto allora andiamo a fare gli angoli allora andiamo a fare gli angoli ok andiamo a fare anche gli altri angoli così qua abbiamo finito poi possiamo mandarla sul 40 e qui perché qua non l'ha fatto ok ok eh sta cosa qua è un po' lenta ma purtroppo dobbiamo farla una riseminatura di erba ma cacchio mi sono dimenticato di accenderla oh l'odio quando è così magari al prossimo campo provo a fare gli angoli retti vediamo cosa succede non lo faccio quasi mai ma è un po' lenta le Ha lasciato il percorso e si è fermato. Perché? Idiota. E questo è a posto. Ora facciamo il pieno visto che ci siamo. E poi la mandiamo direttamente sul campo 41. Dai. Dai. Vai pieno. Semi. Non ho capito perché si ferma. Oh sì adesso dai. 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 Perché non lo prendi il trigger? Aspetta c'era da cambiare il coso. Vediamo. Sì. Semi. Fertalizzante. Vai. Ok. Sì però devi buttarlo poi dentro. Ok. Ah. Potrebbe venire fuori però qualcosa qua che si veda meglio. puoi. ok allora questi non li salvo più perché tanto non mi servono facciamo il campo 41 due giri va bene no centro bene facciamolo red netti vediamo cosa succede vediamo se si va a sfondare da qualche parte forte vai e questo è a posto chissà se bichem è arrivato questo perché ha lasciato il percorso non ho capito questa cosa perché ha lasciato percorso ciccio ma lo ripiglio il percorso ok campo 61 vediamo un po posizione nel campo lui arriva così potrebbe iniziare direttamente così facciamo senso c allora in senso anti orario così anti orario perfetto inizio campo per farne anche quattro oh yes allora il 61 cosa vuole vediamo il 61 vuole poi avvolge l'erba in balle per ottenere insilato perfetto dovrei avere l'aiutante da qualche parte tu stai facendo il tuo questo me lo faccio dopo io aspetto solo l'altra mi di trebbia per meglio dire l'aiutante che mi viene a scaricare questa mi di trebbia vorrei sapere dove cacchio ha oh tu hai finito qua bene oh si oh hai seguito quella non dovevi seguire questa perché questo adesso è sul campo 29 campo 29 e anche questo io dobbiamo dare campo 29 non ho capito perché ha seguito questa ok allora torniamo sull'otto dove sei otto questa quanto materiale acqua poco dai allora scarichiamolo noi direttamente dentro al silos così oh aspetta che dovevo allora visto che questa qua comunque non mi serve lì perché il campo è piccolino quasi quasi me li scarico questo dentro il silos e poi la la metto nel parcheggio quando quella ha finito o magari inizio una missione con questa ma però lo scopriremo tutto ragazzi nella prossima puntata con la North Prisic Marche un salutone al prossimo video ciao iscriviti al nostro canale